Bene amici di Duttordore Fons in questo video vi farò vedere un metodo per visualizzare tutte le icone nascoste di Windows questo ci serve più che altro per entrare nelle cartelle protette in cui l'accesso ci viene negato allora, dobbiamo andare dal menu Start su Computer e andare su Visualizza qua in alto andiamo su Opzioni andiamo su Visualizzazione mettiamo la spunta Visualizza cartelle, file e unità nascoste poi mettiamo come ultimo passaggio mostra sempre le icone e mai le antiprime facciamo Applica e OK a questo punto vediamo ecco qua che ci sono delle cartelle nascoste che prima non c'erano come potete vedere quelle più scure sono quelle che già ci sono state da sempre quelle più chiare come uno come questo questo o quest'altro sono tipo nascoste perché appunto erano nascoste noi tramite l'opzione le abbiamo visualizzate infatti possiamo tranquillamente entrarci senza nessun tipo di accesso senza che ci chieda accesso negato o roba varie e riusciamo comunque a visualizzare queste cartelle bene ragazzi questo tutorial brevissimo si conclude qua e ci vediamo al prossimo video grazie